Io sono una credente. Nella nostra Costituzione penso che sia un libro meraviglioso che se hai un dubbio su qualsiasi cosa lo apri anche a cazzo e ti dà una risposta, sempre. Quindi lei ha aperto la Costituzione a cazzo, come dice lei, e c'era scritto candidati. E' certamente che mi ha detto ci sono i populismi. Laura Boldrini deve intervenire perché succedono cose terribili. In questo paese ci sono i disoccupati che vengono afferrati dai populisti, gli dicono guarda tu sei disoccupato, prenditela col politico, è colpa sua, sono tutti uguali. Cartonato! Ha fatto una cosa sessista? Ma io non ho mai sentito un'oscenità di questo tipo. Cartonato ha fatto la battuta sessista? Ha fatto la battuta sessista? Presidente Boldrini, non le posso ripetere quello che ha detto Cartonato. Vergogna! Cartonato, lei non lo sa che noi abbiamo istituito una commissione contro l'odio. E per comprenderlo pensiamo di mettere presto delle multe di 500.000 euro, Cartonato! Cartonato! Boldrini però, anche lei, cerchi di aiutarmi, io non riesco a tenerlo fermo. Cartonato, non abbia paura di crescere, Cartonato! Non abbia paura di crescere! Ah, mi ha morso! Cartonato, lei sta intervenendo nel merito! Cartonato! E l'intervento sul regolamento è su... È sul regolamento! Cartonato! Secondo richiamo! Cartonato! Esca! Fuori! Allora! Allora! Ah! Etonato! Esca! Fuori! Allora! 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 Scarica l'app, vai su iloft.it e abbonati!